Allora riprendiamo dopo la pausa. Mi sono segnato un paio di domande a cui non avevo risposto prima, nella chat mi sono andato un po' a rivedere. Una è relativa, questa qui, oppure non potrei costruire un'altra lista consorted, è relativa a questa soluzione in cui stiamo ordinando una lista per mettere i voti dal più piccolo al più grande, diciamo così, in previsione di cancellare il primo elemento. E quindi abbiamo fatto una copia della lista e poi l'abbiamo ordinato questa copia. Giustamente questa copia di operazioni, queste due istruzioni potrebbero essere benissimo sostituite, adesso fatemi copiare tutto, potrebbero essere benissimo sostituite con voti2 uguale sorted di voti. E quindi di fatto fa automaticamente una nuova lista e la mette in ordine crescente, quindi non ci serve più il sort successivo. Quindi sì, sicuramente si poteva anche fare così. Come sempre ci sono molti modi di fare la stessa cosa e dipende essenzialmente, non dico il primo che ci viene in mente, però in questa cosa sono abbastanza equivalenti, fanno la stessa operazione. L'importante è appunto ricordarsi quali sono le operazioni che creano una nuova lista e quali sono invece le operazioni che agiscono sulla lista corrente in modo da poi non cadere nei problemi che abbiamo visto prima. Quindi la risposta sicuramente era sì anche in questo caso. L'altra sintassi diversa che magari qualcuno poteva essere venuto in mente era, poteva essere qualcosa di questo genere, voti per cancellare il primo elemento. Per cancellare il primo elemento si poteva, in modo più semplice usare il pop che è esplicito essenzialmente, l'altra alternativa poteva essere quella di costruire una nuova lista che contenesse tutti gli elementi dal secondo in avanti. Anche questo cancella il primo elemento perché crea una slice, una fetta della lista partendo dal secondo elemento, cioè quello di indice 1 fino al fondo e lo rimpiazza la lista precedente. Oppure un'altra sintassi ancora un pochino più antipatica è questa qua, però questa non la consiglierei proprio. Dice sostituisci alla slice fatta, scusate non 0,0 ma 0,1, fatta dal primo elemento solamente, sostituisci una lista vuota e quindi di fatto la slice fatta dal primo elemento viene sostituita, collassata in una slice di dimensione 0 e poi tutto il resto della lista rimane uguale. Quindi sono sintassi diverse per ottenere la stessa operazione che farebbe un pop, in questo caso il pop è talmente più chiaro ed esplicito che non vedo perché devo andarci a scrivere le istruzioni che poi ci richiede un attimo di pensare soprattutto con torta questa attraversione. Quindi con torta è il nostro nemico sempre, ricordiamocelo. Ok, vediamo un secondo esercizio che sempre era proposto sulle slide, semplicino ma secondo me ci aiuta ad affrontare un altro tipo di costrutto che poi troveremo molto spesso, che è questo. No, scusate, non è questo, ma è questo. Cioè, un nostro amico ci sfida a un gioco d'azzardo e porta lui i dadi da casa e quindi noi però prima di giocare, rischiare di perdere tutti i pochi risparmi che abbiamo, dovremmo, vorremmo verificare che il dado che lui ha portato non sia un dado truccato e quindi le sei facce possibilmente escono con la stessa probabilità. Ok? La stessa probabilità di tutte le altre facce. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo costruire un algoritmo che data una sequenza di lanci di dado, quindi di valori tra 1 e 6, mi conti quante volte è uscito l'1, quante volte è uscito il 2, quante volte è uscito il 3 e così via, e ci permette di confrontare questi valori diversi e ci permette di valutare, se vediamo che il 5 è uscito il 50% delle volte, c'è qualcosa che non va probabilmente, perché io mi aspetterei che tutti i valori a meno di una fluttuazione statistica che ci deve essere, siano circa un sesto, un sesto, un sesto del numero totale di lanci, circa ovviamente. Poi non è... se uscisse per assurdo, se uscisse sempre 6, non vuol dire che in automatico il dado è sicuramente truccato, ma statisticamente è un evento molto improbabile, quindi perlomeno decideremo che oggi magari non abbiamo voglia di giocare d'azzardo con il nostro amico e magari andiamo a comparire un paio di dadi nuovi. Allora, che cosa dobbiamo fare qua? Semplicemente un'operazione di conteggio. Abbiamo una sequenza di valori e dobbiamo contare quante volte ciascun valore compare. Come possiamo organizzare? Allora, proviamo a organizzarlo in modo un pochino strutturato, ok? Questo algoritmo. Quindi, prima di tutto, leggiamo, separiamo l'operazione di acquisizione dei dati dall'operazione di elaborazione dei dati stessi. Ok? E quindi, io magari imposto un programma vuoto in cui file new python file, chiamiamo dato truccato. Io non so come far a cancellare questo scarabocchio, quindi se chi l'ha fatto è in grado di farlo, eviti di darci fastidio. Aspetta che c'è una... Così, forse. Così, ce l'ho fatta, scusate. Ok. Allora, il dado truccato, quindi sarà un programma, proviamo a scriverlo come... Allora, ho capito. Come un programma, diciamo, strutturato bene, quindi controlla, il dado truccato, diciamo che definiamo la funzione main, ma abituiamoci a fare le cose per bene, che dovrà prima di tutto leggere i dati, legge una sequenza, una serie di bilanci, e poi calcola la frequenza dei vari lanci. E poi abbiamo chiaramente la chiamata della funzione main, in fondo al programma, e legge una sequenza di lanci, e a sua volta chiamerà una funzione che legge questi valori, quindi possiamo avere una variabile lanci uguale leggi lanci, ad esempio, e quindi una funzione def leggi lanci, e poi sul calcolo della frequenza, vabbè, avremo un'altra funzione, possiamo chiamare la frequenza, calcola frequenze, lanci, a partire da questi lanci, e quindi avremo una funzione seconda che è calcola frequenze, di una serie di lanci. Questo è lo scheletro con cui sto cercando di lavorare. Quindi separo le varie funzionalità e mi chiedo quali sono le variabili e i valori che ciascuna parte del programma dovrà o vorrà utilizzare. Ad esempio, lanci che cos'è? Lanci sarà semplicemente, proviamo a scriverlo qua come commento, lanci è una lista, che contiene i valori usciti dal dado ciascun valore, ciascun elemento della lista sarà un valore tra 1 e 6. Rispondo a Matteo, pass è l'istruzione in Python che non fa nulla, è un'istruzione che non fa niente, finta, però sintaticamente se io non mettessi nulla qua mi darebbe errore perché dice attenzione che hai scritto una funzione senza nulla. Poi ovviamente la sostituiamo o potrei anche mettere print non faccio ancora nulla, attenzione, da completare, eccetera, eccetera, è un to do che mi ricordo sintaticamente mette a posto la sintassi ma non implementa nulla, fa zero operazione. Chiuscura. No, questa è una semplice, ad esempio, potrebbe essere appunto, 1, 5, 4, 2, 1, 6, eccetera, 6, 1, 2, 2, eccetera, eccetera. Un possibile valore. E questo lo leggo, il testo d'esercizio non mi specifica molto e quindi sarà la funzione leggi lanci che poi deciderà come poter acquisire questi dati da tastiera, dall'utente. E quindi in realtà leggerà dall'utente questi dati, dovremmo mettere un ciclo, decidere di leggere i dati, controllare che siano tra 1 e 6, eccetera, eccetera. Questa è una parte di programma abbastanza noiosa perché è tutta la parte di input, controllo dei dati. Sapete cosa faccio? Faccio così. Faccio finta. L'utente abbia inserito questi numeri. Questo ovviamente non è l'implementazione finale di questa funzione, però è un'implementazione parziale che ci permette di concentrarsi sul resto del programma e avere già comunque questa parte che funziona. Questa in gergo si chiama stub. C'è una funzioncina che dovrebbe fare cose più complicate, ma per ora fa una versione minimale che mi permette di andare avanti e concentrarmi sul resto del programma. Poi quando ho fatto il resto del programma posso tornare lì e implementare chiaramente la logica più complessa. Perché ho deciso di cavarmela mettendo una funzione fittizia qua? Ma perché la complicazione del programma sarà nell'altra funzione. È qui che c'è l'algoritmo in cui devo pensare un attimo in più. Questa è semplicemente una lettura di numeri da tastiere. Basta, abbiamo fatto 12 milioni di volte. La sappiamo fare. Allora, finché la mente è fresca concentriamoci sulla parte più difficile. Quello che vi dicevo già più volte se io vedessi un programma in cui questa parte di lettura è perfetta, bellissima, con i campanelli e controlla qualunque tipo di errori ma poi la calcola delle frequenze non esiste oppure è completamente sbagliato quel programma non vale niente. Se invece abbiamo un calcolo delle frequenze che è la parte in questo caso di algoritmo che funziona bene e la parte di lettura magari è un pochino diciamo così più all'acqua di rose e meno curata è chiaramente meglio dal punto di vista della valutazione del compito o di un esercizio in generale. Quindi io cerco di concentrarmi per primo a sviluppare le parti più critiche. Allora che cosa devo fare qua? Qui ho scritto semplicemente frequenze e calcola frequenze ma che vuol dire? In pratica cosa faccio? Cosa voglio ottenere? Cioè cosa vorrei vedere? Allora io vado nella slide e la slide mi fa vedere che lui mi stampa qualcosa del tipo l'uno è uscito due volte il due è uscito una volta il tre è uscito una volta eccetera eccetera Allora potrebbe essere benissimo magari una lista che sto calcolando in cui nella posizione uno ci metto il numero di volte che è uscito il due nella posizione scusate nella posizione uno ci metto il numero di volte che è uscito l'uno cioè due volte nella posizione due ci metto il numero di volte che è uscito l'uno che è uscito il due cioè una volta e così via nella posizione tre ci metto il numero di volte che è uscito il tre cioè una volta e così via nella posizione zero non ci metto niente eh una lista nella posizione zero ce l'ha sempre però a me non serve in certo senso no perché eh oppure posso decidere che nella posizione zero ci metto quante volte è uscito l'uno nella posizione uno ci metto quante volte è uscito il due ma ci costruiamo una cosa di questo genere allora proviamo a immaginarcela un po' meglio eh questa frequenza sarà è una lista in cui nella posizione i è contenuto il numero di volte in cui è uscita la faccia i ok quindi ad esempio nel nostro esempio eh la lista come sarà fatta nella posizione il primo elemento di una lista è la posizione zero zero non è una faccia del dato dato e quindi zero non sarà mai uscito non potrà essere mai uscito nella posizione uno ci metto quante volte è uscito l'uno quindi una due due volte quante volte è uscito il due una due tre tre quante volte è uscito il tre una volta quante volte è uscito il quattro una volta se vedo bene quante volte è uscito il cinque una volta quante volte è uscito il sei due volte e finisce qua quindi questa potrebbe essere la struttura dati che io calcolo che mi memorizza questi contatori questa qui la possiamo anche chiamare è una lista di contatore se io eh se mi avessero chiesto dimmi quante volte eh dimmi quante volte è uscito il due avrei fatto un contatore che incremento ogni volta che trovo il due quindi avrei detto beh il conta uguale conta più uno avrei avuto un contatore che mi rappresentava il due questo caso di contatore non ne ho uno solo ne ho un gruppo di contatori che mi metto insieme e gestisco in una lista eh allora qui ho sbagliato qualcosa ovviamente perché mi dite allora due tre questo il quattro si è uscito una volta e il cinque è uscito una volta quindi confondevo il la la frequenza col 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 valore della faccia grazie delle correzioni ok quindi questo è il valore che mi aspetto e quindi alla fine il programma stamperà no eh for i for diciamo così faccia in range 1 7 perché 1 7 perché da 1 compreso 7 escluso print eh la faccia faccia è uscita eh qual è la variabile frequenza di faccia volte adesso tutto il problema è quello di calcolarla questa allora nel momento in cui lo chiamiamo una lista di contatore già secondo me metà del lavoro mentale fatto nel senso che io mi devo organizzare eh crea una lista sei contatori quindi mi serve eh un array chiamiamolo frequenze che contenga sette zeri così ok potrei anche forse fare usare la moltiplicazione rec uguale vediamo un po' se funziona 0 per 7 mi darebbe effettivamente questo valore fatemi solo verificare una cosa giusto e poi posso modificare le singole celle quindi se vogliamo eh questo qua lo potremmo anche scrivere così con l'operatore di replicazione di un array eh questo secondo operatore è più comodo perché se dovessimo lavorare con dadi non so a 20 facce a 12 facce non quelli dei giochi di ruolo e non dato normale sei facce eh più facile perché basta modificare un parametro eh e il programma si adatta e non dovremmo semplicemente aggiungere degli zeri ogni volta a mano non dovremmo modificare il codice praticamente ok quindi questa lista qua mi dice eh a parte la posizione zero che sappiamo che eh c'è perché nell'array ci deve essere nella lista ci deve essere ma noi non la useremo nelle altre sei posizioni mi dice finora conta uguale zero eh ho contato zero uni ho contato zero due ho contato zero tre zero quattro zero cinque e zero volte il sei finora e poi man mano che vado avanti ad analizzare il singolo lancio all'interno della lista di lanci che mi hai dato andrò a incrementare il contatore corrispondente quindi incremento il contatore frequenza di lancio uguale frequenza di lancio più uno cioè è come se avessi tante variabili che sono conta uno conta due conta tre conta quattro conta cinque conta sei e se ho trovato un tre incremento la variabile conta tre se ho trovato un quattro incremento la variabile conta quattro solo che non sono non mi piace avere tante variabili e poi una serie di if per sapere cosa incrementare ma tutte queste variabili in qualche modo le incasello nelle celle consecutive di questa di questa di questa lista che ovviamente deve essere inizializzata all'inizio perché altrimenti non potrei scrivere frequenza di tre se la posizione tre non ci fosse nell'array quindi la devo creare e la creo col valore opportuno zero e questo vettore che sto creando questa lista che sto creando scusate continuo a usare una terminologia che non è del python la posso restituire al chiamante quindi ho creato una nuova lista che non ha nulla a che vedere con la lista di partenza questa vista avrà sempre sette elementi anche se quello di partenza ne avesse 12 mila e la restituisco poi al chiamante questo chiamante si crea un alias al contrario si crea un alias al contrario perché a questo punto è una variabile che viene creata dalla funzione ma viene ritornata restituita al chiamante quindi il chiamante riceve in realtà un alias di una funzione di una struttura dati che è stata creata dentro la funzione poi la funzione muore subito quindi la parte vecchia dell'alias si perde quindi di fatto è come se la funzione costruisse una lista e questa lista viene data passata al programma alla chiamante al main che a questo punto la può usare come se fosse sua la domanda di Paolo mi chiede ma il più non dovrebbe essere dentro la la parentesi quadra cioè lui mi dice ma io avrei pensato magari di fare così allora sono due cose molto diverse in questo caso sto prendendo prendi una cella della lista e incrementala di uno in quest'altro caso proviamo a fare un esempio se lancio valo s2 tu staresti scrivendo frequenza di 2 uguale frequenza di 3 e allora quello che stai facendo è copia un valore da una cella a quella precedente copia un valore dalla cella 3 alla cella 2 e non incrementa nulla quindi non confondiamo mai quello che è la posizione di una cella col valore della cella noi dobbiamo in questo caso aumentare il valore che è contenuto dentro quella cella 0 deve diventare 1 quindi 0 deve diventare lo 0 precedente più l'1 che ci aggiungiamo noi e lo mettiamo nella stessa posizione quindi una cosa di questo genere in cui gioco sugli indici mi serve per spostare gli elementi all'interno degli array invece se il più è fuori sto giocando sui valori quindi sto calcolando nuovi valori da mettere dentro dentro il vettore quindi questo qua grazie di avercelo detto ma ci scrivo un bel no davanti è di nuovo uno di quegli errori abbastanza frequenti quindi mi fa molto piacere che saltino fuori diciamo così anche durante la discussione perché ci aiutano poi a ragionarci e a non ripeterlo allora vediamo un po' se questa cosa funziona proviamo a fargli un run complessivo e poi magari proviamo a fare a vedere anche passo passo come come lavora ah no 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 la console run di qua aspetta sta ancora truccato eccolo qua così run e mi dice che la faccia 1 è uscita due volte la faccia 2 è uscita tre volte o non sta copiando questo è il suo commento è un valore che ha calcolato lui per davvero la faccia 3 è uscita una volta una una due e quindi ha calcolato il valore giusto della frequenza che ci aspettavamo vediamo come fa andando avanti diciamo così passo passo in modalità debug così allora io entro in debug di questo devo mettere un break point qua entro in debug ok allora leggi lanci è una funzione in realtà appunto che non fa non fa ancora nulla quindi non ci entro dentro mi crea questa variabile lanci che contiene questa sequenza di numeri che abbiamo messo dentro un pochino caso sono dieci lanci diversi se entro in calcolo a frequenze lui inizializza questo vettore di contatori questa lista di contatori con tutti questi zeri e poi prende uno uno per uno i singoli lanci del dado quindi il primo lancio vale uno il primo dado che è uscito vedete che il primo elemento della lista lanci vale uno e quindi la prima iterazione sto considerando l'uno e lui prenderà frequenza di uno cioè secondo elemento e lo sostituisce con il valore che aveva cioè zero più uno quindi ci aspettiamo che dentro la variabile frequenza questo zero in seconda posizione diventi un uno e infatti è diventato un uno poi il lancio successivo il lancio vale cinque e quindi mi aspetto che la penultimo zero da zero diventi uno il lancio successivo è un tre quindi mi aspetto che uno due tre è questo qua centrale da zero diventi uno e vado avanti così quindi ogni volta un quattro incrementa quello in posizione quattro il due incrementa questo qua che era l'unico che è rimasto ancora zero quasi l'unico esce di nuovo un uno lancio uguale a uno e quindi questo uno che nella seconda posizione della regola di indice uguale a uno diventerà si trasformerà da un uno in due e così via quindi è quello che stiamo facendo abbiamo due due liste stiamo calcolando i valori della lista frequenze analizzando i valori della lista lanci da notare che appunto la lista frequenza ha sempre sette posizioni di cui la prima non la usiamo la lista lanci in questo caso ne ha dieci ma potrebbe anche averne ottanta noi non sappiamo quindi non è detto che le liste debbano avere la stessa lunghezza devono contenere diciamo così elementi confrontabili e poi chiamo calcolare questo valore allora se adesso siamo convinti che il calcolo che facciamo sia un calcolo giusto allora dobbiamo andare a chiaramente a rimettere a posto questa funzione di lettura dei lanci e mettere una lettura vera e propria quindi chiedere all'utente di inserire questi valori e quindi vabbè lo farò dado uguale input inserisci inserisci un valore del dado 1 a 6 e metti asterisco per uscire 2 punti chiusa tonda qui c'è tutta la parte noiosa quindi while dado diverso dall'asterisco ora dovrò prendere questo valore e convertirlo in numero quindi se dado punto is numeric is and o is digit scusate sempre is digit and allora se è fatto di solo le cifre allora posso calcolare il valore del dado come int di dado e contro dado e controllo se è completo tra 1 e 6 if dado è completo tra 1 e 6 dado sempre no non è dado scusate valore perché è l'intero allora ho finalmente ho un lancio corretto e lo dovrò aggiungere all'array dei lanci append valore questa lista dei lanci ovviamente dovrò inizializzarla all'inizio della funzione in modo che sia sempre la lista la stessa e poi via via aggiungo elementi altrimenti dovrò dire che il valore non valido valore valore non valido oppure dovrò dire dato dato dado non numerico e poi e poi ovviamente prima di tornare su del while devo andare a leggere il dato successivo quindi qua di intelligenza non c'è nulla semplicemente il solito ciclo con controllo degli errori stampa dei messaggini l'unica istruzione sensata è questa input questa conversione intero e l'appende alla lista cioè tutto questo serve per fare la lista il resto sono controllo dell'errore che per carità ci vuole e quindi dovrò inserire il valore del dado ho un 6 poi un 2 poi un 4 se qualcuno mette qualcosa altro mi dice che il dato non è numerico se inserisco il 9 mi dice che il valore non è valido poi un 7 no ma 4 1 1 1 2 2 e poi quando sono stufo metto asterisco e lui si blocca perché ho sbagliato qualcosa cosa ho sbagliato linea 47 linea 41 calcola frequenze vabbè certo perché sono stato bravissimo a creare questa lista ma poi non l'ho ritornata al chiamante e quindi lui mi dice guarda che tu hai un oggetto non lanci è un oggetto nullo non ha nessun valore perché la funzione leggi lanci e mi era dimenticato di fare il return e quindi non restituiva nulla e quindi quando il man chiamava leggi lanci all'interno di questa variabile lanci c'era il valore non valore nullo che veniva poi passato calcolo a frequenze che ovviamente poi si arrabbiava quando cercava di usare il valore suo interno quindi da capo inserisci un po' di valori asterisco e mi stamperà che la faccia 1 uscita una volta la faccia 2 uscita tre volte la faccia 4 uscita quattro volte e così via quindi abbiamo la distribuzione delle frequenze dei vari dei vari lanci ok questo con i lanci effettivamente ottenuti dal dado reale Simone mi dice ma io ho questi dati qua in realtà li potrei anche simulare con un RAND è certo che se li simulo con un RAND con un numero casuale ottengo una verifica che il generatore di numeri casuali sia equo ma l'esercizio mi chiedeva invece di identificare un dato reale io spero proprio che il generatore di numeri casuali di Python sia equo genero mille numeri casuali mi vengono ben distribuiti però la verifica era su dati presi reali dal dado reale che valori venivano fuori ok al di là di tutto qual è la parte più importante di questo esercizio era quello di pensare ad usare una lista in un modo un po' diverso cioè la lista non è a questo punto più una serie di elementi che arrivano uno dopo l'altro in ordine cronologico in ordine di successione ma è un contenitore che contiene sei contatori diversi che contano ciascuno un valore distinto quindi sto un pochino immaginando di usare la lista con un contenitore di variabili ciascuno delle quali ha un suo scopo e non semplicemente come una sequenza come una sequenza di numeri diciamo così che cresce temporalmente che cresce in modo sequenziale quindi tutto questo come dicevo lo riassumi dicendo che ho fatto una lista di contatori vuol dire che abbiamo già messo insieme due concetti quello di contatore che è comunque una variabile che si incrementa quando vede qualcosa che gli piace è una lista che contiene più più valori in ciascuno dei quali per noi in questo caso è un contatore in più abbiamo fatto un altro passo logico che forse era scontato ma era quello di dire che l'indice nella lista la posizione di un elemento nella lista per noi corrisponde al valore che sta scritto sulla faccia del dado che anche qui stiamo usando il fatto che le facce del dado vanno da 1 a 6 se le facce del dado fossero stati dei numeri casuali o dei numeri frazionari pi greco logaritmo di 7 o cose di questo genere non avremmo potuto usare questo trucco perché come indice dell'array posso usare solamente dei numeri interi possibilmente piccoli che partono da 0 nel caso del dado va bene abbiamo solo l'anomalia della posizione 0 che vabbè non la possiamo usare ce l'abbiamo lì abbiamo sprecato una cella che non ci serve a niente e vabbè però in altri casi quando i valori che sto cercando di conteggiare non sono dei numeri interi questo approccio qua non funziona dovremmo aspettare l'ultimo argomento del corso dove faremo i dizionari dove invece il valore chiave può essere una qualunque cosa non necessariamente una qualunque stringa diciamo e non necessariamente un numero intero piccolo diciamo quelli delle prime unità quindi abbiamo messo insieme questi tre concetti questi tre per la prima volta e abbiamo costruito questa che appunto l'abbiamo chiamata lista di contatori e a questo punto avendola costruita insieme una volta le prossime volte sappiamo già più o meno come affrontare problemi simili qui è tutto così nel senso che non abbiamo inserito nulla di nuovo in questo esercizio sono tutte istruzioni che abbiamo già fatte ma le abbiamo combinate per la prima volta in un modo diverso quindi da qui in avanti il lavoro è di questo tipo fare prove esercizi di tipo diverso per combinare in modo diverso e arrivando anche ai risultati che sono non dico imprevedibili ma abbastanza diversi dal classico esempietto in un certo senso ok va bene poi in realtà questo non risponde alla vera domanda perché la domanda dice il dato è truccato non lo so non so se i valori che ho ottenuto qua sono statisticamente compatibili con un dato non truccato qui mi fermo io bisognerebbe chiedere al prof di statistica dicendo prof ci aiuta capire se con quale grado di confidenza questi dati sono compatibili con la distribuzione uniforme tra 1 e 6 anche lì ci sono le formule ci sono i test statistici che fanno queste cose ma diciamo così sui valori delle frequenze che ho ottenuto dovrei fare un controllo noi avevamo qui il 4 che è uscito 4 volte e il 6 che è uscito una volta sola è normale è possibile sì che è possibile è probabile è improbabile è un'anomalia ecco questo richiederebbe un'analisi statistica che è al di là del calcolo puro delle frequenze ok fatto questo esercizio io passerei al questo lo salto ma se volete guardarlo è semplicemente un altro esercizio all'argomento successivo che è semplicemente il passo logico successivo rispetto alle liste qui viene chiamato tabelle ma in realtà si tratta di liste di liste cioè noi in una lista abbiamo imparato come memorizzare e poi gestire una struttura dati di tipo lineare unidimensionale che voi ve la immaginate in griglia che lo immaginate in colonna comunque c'è solo una sequenza ordinata di valori ma cosa succede se invece dovessimo manipolare delle sequenze bidimensionali una tabella dati qui ad esempio nel libro ci fa l'esempio delle medaglie vinte da varie nazioni nell'ultima Olimpiade quindi abbiamo dei numeri che sono per loro natura disposti su una griglia bidimensionale due dimensioni da un lato ho la riga le righe che rappresentano le nazioni le colonne rappresentano il tipo di medaglie ok e quindi ad ogni incrocio righe e colonna mi dice questa nazione il Giappone quante medaglie d'argento ha ricevuto cioè in questo caso zero allora come faccio a rappresentare dei dati di questo genere che sono bidimensionali all'interno di Python beh questo ci serve per rappresentare le tabelle ci serve in matematica per rappresentare le matrici le matrici di numere quando farete algebra lineare tutte le strutture dati che hanno due dimensioni o più di due dimensioni adesso lo facciamo con due ma poi il passo per generalizzarle è banale questo lo si può fare semplicemente creando delle tabelle i cui elementi siano a loro volta delle scusate creando delle liste i cui elementi siano a loro volta delle liste cioè io vedo questa tabella come se fosse una lista di tante cose questa è la prima cosa questa è la seconda cosa fatemela chiamare cosa per adesso questa è la terza eccetera eccetera l'ultima sarà questa quindi questa tabella di numeri è una sequenza di 0 1 2 3 4 5 6 7 di 8 elementi ciascuno dei quali deve rappresentare una riga della tabella qui la tabella è una lista di righe scriviamo una tabella uguale lista di righe e ciascuna riga che cos'è andiamola a vedere la prima riga me la scrivo a parte sarà uno 0 un 3 e uno 0 questa qua mi sembra tanto che una singola riga non sia altro che una lista di numeri allora se io avessi scritto sopra che una tabella è una lista di stringhe non ci avrebbe dato problemi una lista di righe righe non sappiamo che cos'è ma noi sappiamo che una riga si può rappresentare a sua volta attraverso una lista quindi se io al posto di righe scrivo che cos'è effettivamente una lista una riga cioè una lista di numeri in realtà sto dicendo che una tabella la presento come lista di liste di numeri che è quello che stiamo facendo qui stiamo costruendo una tabella una lista scusatemi la tabella cioè quindi costruendo una lista qui abbiamo una lista aperta quadra primo elemento però non guardiamo cosa c'è dentro virgola altro elemento non guardiamo cosa c'è dentro virgola altro elemento virgola eccetera eccetera chiusa quadra questa è la classica sintassica che usiamo per creare una lista ok quindi abbiamo una lista di otto cose poi andiamo a vedere che cos'è ciascuna di queste cose quindi vado a estrarre solamente questa parte prendo questo perché gli altri li ho pasticciati e di nuovo a sua volta è una lista quindi noi stiamo applicando il criterio generale che una lista è un contenitore di oggetti questi oggetti possono essere numeri possono essere stringhe possono essere altre liste possono essere qualunque cosa avevamo anche detto all'inizio che una lista potrebbe addirittura avere come primo elemento un numero come secondo una stringa eccetera eccetera ma poi stiamo cercando di non usarla questa possibilità perché ci complica solamente la vita qui stiamo usando un caso particolare in cui gli elementi di una lista sono a loro volta liste poi come diceva Alessia potrebbero anche non essere solamente numeri potrebbero essere stringhe potrebbero essere qualunque tipo di dato quindi vale in generale non vale solamente per i numeri ovviamente questo meccanismo quindi io non ho il python non ha una struttura dati bidimensionale in modo nativo non ha una struttura dati matrice però con una lista i cui elementi siano a loro volta liste io riesco a simulare una struttura dati come se fosse bidimensionale come funziona? allora se noi potessimo vedere dentro la memoria del calcolatore vedremo una cosa di questo genere noi abbiamo la variabile count che è stata segnata qua che punta a una lista di otto elementi se io mi fermassi qua questa è una normalissima lista di otto elementi potrebbero essere numeri potrebbero essere stringhe potrebbero essere poi ho costruito otto liste separate ne ho costruite otto perché vedete che c'è otto volte una due tre è la parente di quadra aperta che costruisce una nuova lista noi ormai lo sappiamo quando metto aperta quadra sto facendo una lista nuova che prima non c'era sto costruendo otto liste e il riferimento alla prima lista lo memorizzo dentro la prima posizione dell'array della della lista principale il riferimento a quest'altra lista lo memorizzo qui quindi questa lista si chiama count perché l'ho chiamata così quando l'ho inizializzata questa casella come si chiamerà vabbè è una normale cella di una lista quindi si chiamerà count di tre ok ma questa qui a sua volta è una lista e quindi questo elemento count di tre è questo punta qui questo elemento che cosa sarà sarà la lista che lo contiene questa è la lista il secondo elemento di quella lista poi ho messo le parenti di tonde inutili counts di tre di uno quindi è il secondo elemento della quarta lista di count contenuta dentro counts allora visto così mi sembra effettivamente che sia la seconda colonna della quarta riga della mia tabella la seconda colonna perché uno qui ovviamente le colonne partono sempre da zero e anche qua zero uno zero uno due tre eccetera eccetera mi dà questo elemento che noi ce lo possiamo anche visualizzare mentalmente come l'incrocio tra un numero di riga e un numero di colonna giustamente se anziché un numero ci fossero delle stringhe posso ovviamente la stringa alla sua volta l'indicizzo con un'ulteriore parentesi quadra se voglio andare ad accedere ai caratteri che essa contiene tenete per esempio c'è a scuro di queste celle adesso è un numero ma potrebbe essere qualsiasi cosa in python un'altra un'altra lista se vogliamo una stringa una lista di string non c'è limite diciamo così all'anidamento delle strutture dati l'unico limite come sempre ho già ripetuto più volte è la nostra capacità di comprendere non quella del calcolatore di gestirle però vedete che il meccanismo è sempre lo stesso io qua ho scritto così ma in realtà avrei anche potuto mettere che quello in quarta posizione era uno due tre del Giappone ok avrei anche potuto scrivere che jap uguale counts di tre il Giappone in questo caso avrei fatto cosa faccio con un'istruzione di questo genere che non è nulla di particolare crea un alias e quindi avrei la variabile jap che punta a questa stessa lista quindi scrivere counts di tre oppure scrivere Giappone alla fine è la stessa cosa perché punta comunque a questa lista e quindi questo elemento lo potrei anche chiamare visto che è un alias è un sinonimo lo potrei anche chiamare Giappone di uno non ci sarebbero problemi quindi il meccanismo con cui funzionano le liste di liste eccetera è sempre il meccanismo degli alias variabile che punta a un valore e questo valore può essere usato chiamato più volte in più modi diversi per questo non ci sono limite agli annidamenti perché a loro volta queste celle qui non sono molto diverse da questa cella qui sono comunque sempre delle variabili che fanno riferimento a una struttura dati che sta fuori che sta da un'altra parte quindi a loro volta anche questa variabile qui volendo potrebbe puntare a una struttura dati più complicata e così via non c'è non c'è nessun limite non c'è nessuna complicazione nel gestire queste cose ma una volta che mi sono fatto il modello mentale di come funzionano i dati davvero poi in realtà ragiono posso avere darmi il permesso di ragionare per righe e colonne quindi pensare che una cosa di questo genere sia bidimensionale che ha costruito in modo bidimensionale qui ci sono due visualizzazioni di quelle che potete trovare facendo python tutor semplicemente sono due visualizzazioni diverse che rappresentano gli stessi dati questa è quella più fedele alla realtà cioè la variabile counts ok che punta a un oggetto di tipo lista questo oggetto di tipo lista ha otto elementi ciascuno di questi elementi a sua volta è un oggetto di tipo lista che contiene tre elementi poi per ragione di spazio il python tutor ce li può anche visualizzare così dove questa lista seconda è inserita dentro la casella zero della prima ma è più corretta questa visualizzazione più espansa perché potrebbe anche darsi che queste liste non fossero tutte diverse tra di loro ma qualcuna di esse fosse un alias di altre adesso non voglio complicare tutto subito la prima volta che le vediamo quindi proviamo a scrivere un po' di codice così giochiamo giochiamo un po' con questa struttura dati con questo esempio delle medaglie dove è finito il ecco qua quindi facciamo un nuovo file medaglie dove costruiamo questa nostra variabile counts allora noi la possiamo costruire come c'era scritto quindi prendiamo dove è andato la slide precedente 030 ma mettere i numeri anche un po' a caso anche se non sono gli stessi 1 3 2 3 ne metto ancora 1 dai e poi mi fermo 222 ok print counts vediamo cosa ci fa print di counts mi stampa questa struttura dati che vedete che lui giustamente dice lista che contiene 1 2 3 e 4 elementi poi ciascun elemento cos'è a sua volta una lista va bene allora la stampo come se fosse una lista aperta quadra i valori eccetera eccetera ok io poi posso esiste anche se non sbaglio una funzione che si chiama pprint che sta per prettyprint nella debia standard che in questo caso in questo caso non è una stampa uguale ma se fosse una struttura dati lunga la mette a capo su più righe e me la fa vedere in modo più ordinato in questo caso si vede che non è abbastanza grande per andare a capo mettiamo un breakpoint una lista di tre elementi è una lista di tre elementi e infatti se vado lo espando vedo che il primo il secondo il terzo elemento di questa lista hanno dei valori che a loro volta sono degli interi quindi counts è una lista di quattro elementi in questo caso counts di i è una lista di tre elementi di tre elementi di i j è un intero perché è un intero perché counts di i è una lista di tre elementi che sono interi degli interi in questo caso e quindi counts è una lista di quattro elementi che sono liste questo è il castello che abbiamo costruito se io volessi stampare una riga sola potrei stampare counts di zero le prime medaglie scusate non count ma counts e quindi mi stampa le prime medaglie quella riga come se fosse una variabile sola ok come se fosse una variabile indipendente dalle altre non è un problema io la posso anche assegnare potrei la prima che so italia uguale counts di zero e poi stampo italia vediamo eseguire in debug vediamo cosa viene fuori quando quando scrivo italia uguale count di zero guardiamo le variabili count è la variabile di prima che abbiamo visto prima se scrivo italia uguale count di zero vedete che italia è una normalissima lista di tre fino a dieci minuti fa se avessimo visto che questa è una lista di tre elementi non ci avrebbe spaventato se sarebbe stata una lista normalissima il fatto che questa lista sia presa dall'interno di una struttura più complicata che è fatta come lista di liste non cambia nulla non cambia la natura il fatto che questa sia una normalissima lista c'è una domanda interessante di Nicolò che mi dice ma se ho capito bene la domanda tu sei capace a estrarre una singola riga ma come faccio ad estrarre una colonna non si può o meglio non si può con un'istruzione sola non si può con un'istruzione sola ma me la devo me la vorrei se volessi costruire una lista che corrisponde alla seconda colonna cioè alle medaglie d'argento me la devo fare quindi farò posso c'è argento uguale lista vuota for righe in counts facciamo azioni più facile in counts farò che argento un tappend di che cosa di nazioni di uno e quindi vedete che posso stampare le medaglie argento 3 0 2 2 che sono la seconda colonna della matrice quindi che cosa ho fatto qua cerchiamo di analizzarlo for nazioni in counts counts è una lista di liste sto iterando su una lista di liste quindi il singolo elemento di una lista di liste cosa sarà una lista quindi nazioni prende come la prima volta la prima iterazione con nazioni è uguale a questa variabile che si chiama italia rappresenta la prima riga la seconda volta rappresenterà la lista 001 alla terza iterazione nazioni rappresenta la lista 123 rappresenta la singola riga della tabella che per noi le righe sono le nazioni stesse di ogni valore pensiamo all'italia vogliamo estrarre l'argento che è il valore di mezzo quindi quello l'indice 1 nazioni non è più una lista di liste è una lista semplice se itero su una lista di liste il singolo elemento è una lista se itero su una lista il singolo elemento è un numero o cose di questo genere quindi scendo ovviamente di un grado ogni volta e quindi lo posso appendere aggiungere a un'altra lista che è di fatto la versione per colonna non c'è modo di estrarla senza andare per righe l'unico modo di accedere agli elementi è passare dalle righe e poi una volta che sono una riga vado a pescare l'elemento che mi serve nella colonna non c'è modo nativo in python poi ovviamente se usate le librerie matematiche come numpy ad esempio hanno tutta una serie già nativa di funzioni per lavorare con le matrici matrici di numeri bidimensionali e quindi vi danno già la funzione per estrarre la colonna ma con le liste semplici l'unico modo è lavorare in questo modo la domanda di Filippo che mi chiede se l'Italia crea una nuova lista o se riferisce alla stessa lista vale la regola generale questo è un alias ok è un alias e infatti se io facessi dopo che ho stampato Italia dicessi che l'Italia ha vinto 100 medaglie d'oro e quindi dovrei stampare non 030 ma 100 3 0 se poi subito dopo stamparsi le medaglie totali vedrei che è stata modificata proprio il 100 dentro la matrice iniziale siamo qua 030 l'ho stampato qua poi ho messo le medaglie d'oro dell'Italia a 100 e ho subito stampato Italia fin quando non c'è nessuna sorpresa ovviamente ho modificato 100 lo stampo vedrò 100 però quando stampo counts intero la riga che conteneva l'Italia ovviamente conterrà 100 perché questo Italia uguale a counts di 0 ha creato semplicemente un alias alla prima riga della tabella se avessi fatto list di counts di 0 ovviamente sappiamo già che avrebbe creato una copia e quindi questa modifica non si sarebbe propagata nella lista principale attenzione che quando crea una cosa di questo genere con argento non crea un alias crea una lista diversa quindi se a questo punto mettessi argento di 0 uguale a 100 non si andrebbe ovviamente a propagare all'indietro perché nessuno sa che questa lista argento è noi mentalmente sappiamo che è collegata sarebbe la seconda colonna ma dal punto di vista del codice è una lista completamente diversa che ci siamo costruiti da 0 senza nessun collegamento diretto quindi è chiaro che quando estraggo una riga se la estraggo semplicemente con l'uguale ho un alias a quella riga che però si comporta come una lista come tutte le altre ok e cosa ecco cosa posso farci immaginiamo di quindi l'abbiamo stampata così questa tabella ma immaginiamo di volerla stampare in un modo un pochino più ordinato come faccio a sapere quante righe ha questa tabella come faccio a sapere quante colonne ha aiutatemi a scrivere ho print la tabella ha quante righe e quante colonne come possiamo sapere scriviamo così scriviamo righe colonne e mi aiutate a scrivere righe uguale righe uguale e colonne uguale righe uguale simone ha detto l'handy count siete d'accordo le colonne le righe se le vediamo qua ovviamente è la dimensione di questa prima tabella counts è una lista di otto righe qui c'eravamo detti poi che queste righe a loro volta siano le cose più complicate a counts non interessa a counts lei sta richiedendo una lista lei sa che è una lista poi che cosa viene puntato degli elementi di questa lista a counts non interessa quindi giustamente sono d'accordo con voi che basta contare il numero di elementi che c'è nella lista counts che counts è una lista le colonne invece devo chiedere alle singole listarelle piccole quanti elementi hanno quindi dovrebbero essere la lunghezza ad esempio dell'Italia di counts di zero counts di zero giustamente qualcuno di voi dice ma poi se queste cose qua fossero di lunghezza diversa se queste varie sottoliste fossero di lunghezza diversa dovrei prendere qual devo prendere la più lunga la più corta non lo so in realtà qui siamo visto che siamo partiti da una struttura dati fatta a tabella noi presupponiamo che le colonne siano fisse siano un numero ben definito ok siano uguali per tutte le righe quindi qui non abbiamo una tabella il cui bordo destro va zig zag alcune righe sono più lunghe altre sono più corte se no chiaramente non avremo se alcune righe fossero più lunghe altre più corte non avremo un concetto di colonne di quante colonne ci sono ma avremo diciamo così tante righe la cui lunghezza è diversa quindi avremo non una matrice bidimensionale se sono tutte lunghe uguali tanto vale contare la prima cioè una vale l'altra in certo senso ok quindi non questo qua ovviamente se ipotesi le colonne sono tutte uguali le liste con ciascuna lista contiene lo stesso numero di elementi altrimenti non si può parlare di colonne ovviamente attenzione quando Marco mi scrive conf di i qua non funziona hanno detto che funzioni perché non so quanto vale i quindi non siamo in matematica dove i è una variabile generica indefinita siamo in python dove i se è stata definita ha un certo valore numerico ben preciso quindi qui bisogna mettere un valore non puoi dire ma sì della generica riga no non esiste la generica riga dimmi quale riga vuoi ok quindi sì è vero che io capisco che tu intendevi qualsiasi ma il codice non capisce e quindi lui ci chiede ma sì ma quanto vale i e se non gli hai dato un valore ovviamente ti dà un errore di variabile indefinita quindi siamo noi che dobbiamo scegliere una una qualsiasi ma la dobbiamo scegliere a monte ok e immaginiamo invece di voler leggere una tabella da tastiera no come possiamo fare a costruirla a costruire una matrice di tutti i zeri costruiamole un'altra sempre di queste dimensioni visto che abbiamo estratto le dimensioni di questo adesso costruisco una nuova tabella con le stesse dimensioni diciamo così inizializzata a tutti i zero per esempio allora per costruire una tabella in questo caso l'abbiamo costruita dandola come costante ma se invece la volessimo costruire da programma quindi in questo caso li mettiamo di zeri oppure potrebbero essere anche dei numeri casuali mettiamo numeri casuali che è più bello inizializzata con numeri casuali tra 0 e 100 allora cosa dovrò fare? dovrò costruirla una riga per volta costruisco la prima riga ci metto dentro dei valori costruisco la seconda riga ci metto dentro i valori e così via quindi dovrò diciamo così avere un ciclo esterno fatemelo chiamare i che si ripete tante volte quante sono le righe quindi in questo caso ho 4 righe che devo costruire e quindi per ogni iterazione di questo ciclo devo costruire la riga numero i quindi la riga numero 0 la riga numero 1 la riga numero 2 e la riga numero 3 potrebbe essere qualcosa tipo riga uguale 0 0 0 non va bene però mettiamola come provvisorio qui ho costruito una riga e poi la devo ovviamente aggiungere alla tabella e già la tabella mi sono dimenticato di definirla tabella uguale lista vuota tabella lista vuota è ovviamente una tabella di 0 righe per 0 colonne poi costruisco una riga e aggiungo aggiungo questa riga alla tabella con un normalissimo append ho aggiunto a una tabella un singolo valore che a sua volta è una lista proviamo a vedere in modo interattivo cosa succede se io faccio tabella uguale lista vuota la vediamo qua no? non contiene niente costruisco una riga che contiene 0 0 0 e va bene e se faccio tabella punto append di riga se faccio tabella punto append di 3 va a finire un 3 tabella punto append di riga aggiunge un elemento nella lista che si chiama tabella e questo elemento a sua volta è una lista lo vediamo qua dalle doppie parentesi quadre la tabella è una lista di un elemento questo elemento a sua volta è una lista di 3 elementi quindi attenzione a non fare extend che sarebbe sbagliato perché extend aggiungerebbe 3 elementi che sono lo 0 lo 0 e l'altro 0 in fila in modo lineare non in modo annidato rientrato contenuto al suo interno e qui noi questa cosa qua la stiamo ripetendo tante volte quante sono le righe quindi se alla fine stampassi la mia tabella e facessi eseguire il programma mi farebbe vedere alla fine una matrice una tabella bidimensionale con il numero di righe e il numero di colonne giuste ma con tutti i valori messi a 0 ovviamente questa riga non deve essere costante ma deve essere variabile deve innanzitutto una lunghezza che dipende dalle colonne e dei valori che devono essere invece random quindi possiamo from random import and int e quindi questa riga non la posso costruire così ma dovrò costruire inizializzando una riga vuota e poi for j in range di colonne aggiungerò riga punto append un singolo numero che non è altro che un randint tra 1 e 100 tra 0 e 100 qui anziché metterla come costante la metto con delle variabili casuali e ne metto tante quante sono le colonne che devo creare che in questo caso dovrebbero essere 3 quindi se eseguo questo mi farà vedere la stessa cosa con dei numeri casuali messi dentro quindi costruire una tabella significa costruire l'impalcatura delle righe all'interno di ogni riga costruire l'impalcatura delle colonne e all'interno di ogni colonna inserirci sui singoli numeri i singoli valori che devo memorizzare se sono numeri in fiamma qua se fossero stringhe chiaramente a loro volta sono strutturate su più caratteri eccetera eccetera essendo una struttura bidimensionale nel 90% dei casi per lavorarci sopra avevo bisogno di due cicli anidati uno che lavora sulle righe esterne uno che lavora sulle colonne interne e poi per accedere ai singoli elementi e prendo ancora dieci secondi poi chiudo per stamparlo anche qua posso avere un ciclo sulle righe in tabella riga in tabella posso stampare singoli valori quindi for colonna in riga print il valore quindi abbiamo detto colonna di no colonna in simile semplicemente semplicemente il valore colonna end uguale azio print e quindi me la posso stampare come stampato qua in fondo pseudo incolonando i numeri poi dovrei mettere a posto gli spazi ma non perdiamo tempo adesso su questi dettagli in cui itero sulla tabella con la variabile riga che rappresenta un alias sulla singola riga poi sulla singola riga il secondo for quello più interno va a prendere i singoli valori che ci sono nelle celle di quella riga e questi valori li stampa io questa stessa cosa la posso anche scrivere con gli indici quindi anziché usare un for normale uso un for range quindi range numero di righe e j in range di numero di colonne e a questo punto l'elemento sarà tabella non col colonne si chiamava colonne sarà tabella di ij che ovviamente mi stampa esattamente la stessa cosa che è questa seconda stampa che ho fatto qua identica alla precedente dove itero sugli indici anziché sui valori quindi come sempre abbiamo quasi sempre due forme dei for uno che va lavorare direttamente sui valori l'altro che invece si porta dietro gli indici perché magari mi serve quel valore numerico degli indici e voglio stampare tutti gli elementi tranne quelli dell'ultima colonna o vai sapere mi serve l'indice di riga e l'indice di colonna e quindi le uso a questo punto come se fosse una lista con due indici anziché una lista con un indice solo ok quindi anche qua nulla di concettualmente molto complicato bisogna però prenderci la mano perché ci sono vari casi particolari da gestire e li vedremo come sempre facendo un po' di esercizi per oggi vi lascio andare e vi come sempre ovviamente questo ve lo condivido condivido il file nei prossimi 5 minuti ci vediamo come al solito giovedì in laboratorio mantenendo i turni dell'ultima volta quindi tutto online con i turni che sono scritti sul sito che sono esattamente quelli della settimana scorsa grazie a tutti e ci vediamo giovedì mattina arrivederci grazie grazie a tutti